Il consigliere comunale Massimiliano di Cuiia guiderà come candidato sindaco la coalizione di partiti che nel centro-destra non hanno, diciamo così, apprezzato la candidatura decisa da fitto di Aldo Condemi nel PDL. Di Cuiia, infatti, ha accettato la proposta di IOSUD, Agora Movimento Filonide per la Regione Salento, MAC, di candidarsi a sindaco in alternativa ai principali schieramenti finora in campo. Una decisione, come detto, presa sostanzialmente in disaccordo con la scelta dei berlusconiani che, oltre a far fioccare dunque altre candidature, ha anche comportato l'abbandono di molti nel partito e dunque lo spostamento di liste e candidati verso la coalizione di Cito, tra cui l'altro pezzo forte del PDL, Franco Vitanza, e partiti tra cui la destra di Sorace. Anche nello schieramento opposto si registrano movimenti significativi, tra cui quello dell'avvicinamento di rifondazione a Dante Capriulo e dei riformisti di Carrozzo, fino a ieri seduti al tavolo del centro-destra anche loro, nelle liste di Bonelli. Definitiva, infine, come anticipato nei giorni scorsi, l'alleanza tra l'Udc e il sindaco sciente Ezio Stefano. Un quadro, insomma, molto eterogeneo, in via ancora di composizione. C'è tempo fino al 2 aprile, giorno di presentazione delle liste elettorali in comune.